Con Jeep si va sempre sul sicuro. I fuoristrada del brand Stellantis uniscono le capacità di un 4x4 alla comodità di un'auto da città ed è per questo motivo che la Compass è un'ottima scelta anche nella formula del noleggio a lungo termine. Chi sceglie una Jeep non lo fa, certo per restare sull'asfalto. Il primo motivo per noleggiare la Compass sono senza dubbio le sue capacità da fuoristrada. I più avventurosi opteranno per la versione Trailhawk con sospensioni specifiche, angolo di attacco di 30,4 gradi e un'altezza da terra di 21,3 centimetri. Fuoristrada però non vuol dire rinunciare al comfort. Nel suo ultimo aggiornamento la Jeep Compass propone degli interni che assumono un'area decisamente premium. La plancia si sviluppa su tre strati longitudinali integrando i comandi, le sottili prese d'aria e lo schermo touch. Schermo fulcro del sistema multimediale Uconnect, sempre connesso, aggiornato in tempo reale e compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Il terzo motivo per noleggiare la Compass è il suo design, tipicamente Jeep ma con un tocco cittadino. La tradizione dello storico brand torna in particolar modo nel frontale con la caratteristica griglie a sette feritoi, divisa stavolta in due porzioni per integrare i sottili fari LED. Jeep sì, dalle linee robuste e con il piglio aggressivo racchiuse però in dimensioni abbastanza compatte da adattarsi bene anche alla guida in città. E voi? Siete tipi da Jeep? Scegliereste la Compass come auto a noleggio? Fatecelo sapere nei commenti e seguite Fleet Magazine per non perdervi neppure una novità dell'automotive. Grazie a tutti.